Ultimo brano in programma, Spider-Man. Perché è giusto finire con l'uomo ragno. Ma se non ci sono paura dei ragni? Ah, eh, non ci avevamo pensato. Senti, facciamo così. Beh, dagli usciti le sicurezze sono là. Eh, grazie. Ma facciamo farlo adesso. Farlo, farlo. Adesso che gliel'hai detto si sbuocano, no? No, no. Io gli avevo detto che non doveva dire questa cosa. C'è la faccio o non ce la faccio? Ah, non ce la faccio. Ah, non ce la faccio. C'è la faccio. Se le vicino un video più sostiene soprattutto robe. Il nostro S. Il nostro istante сп theories è chiaro. In una dalla 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 Dima. diametro. There goes a Spider-Man In the chill of night Of the scene of a crime Like a string of light He arrives just in time Spider-Man, Spider-Man Friendly name of Spider-Man Welcome to Amazing Lord Action is easy as a word to him There goes a Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Does whatever's fine again Swinzle all over his eyes Can't wait to see him She feels just like flies Look on, here comes a Spider-Man In the chill of night At the scene of a crime Like a string of light He arrives just in time Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Does whatever's fine again Swinzle all over his eyes Can't wait to see him Still like flies Look on, here comes a Spider-Man Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Friendly name of Spider-Man Will not play Amazing Lord Action is easy as a word to him Here comes the Spider-Man Grazie a tutti.